Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come trovare il candelabro dell'inquisitore su Wilder Ring. Ovviamente ci troviamo qui al cancello dove sta l'Accademia Lucaria. Se avete problemi ad entrare in questo cancello c'è una guida in alto a destra su come trovare la chiave per aprire questo cancello. Ovviamente per prendere questo candelabro dobbiamo morire e farci così teletrasportare alla Villa Volcano in un punto dove noi non possiamo raggiungere. Quindi serve per forza il teletrasporto. Quindi una volta fatto prendiamo così la piattaforma, saliamo su e raggiungiamo l'Accademia. Grazie. 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 Ok una volta arrivati qui buttiamoci qua sotto cerchiamo di salire sopra poi piano piano questa piattaforma scenderà quindi cercate di mettervi in una posizione tipo adesso vi faccio vedere se siete bravi a fare questo boom per voi fate così come me e aspettiamo aspettiamo che arriviamo fino ora qui dobbiamo morire quindi questo caso cercate di farvi riprendere da questa macchina quindi vi inghiottirà esatto così in questo modo io qua ho sbagliato non dovevo schivare non dovevo fare questa cosa quindi cercherò di morire all'interno della macchina il bastoncino per salvare le rune non ce l'ho quindi verrò a riprendermi le rune qua quindi speriamo bene e niente mi ha risputato mi faccio prendere di nuovo ok sono morto le rune le ho perse e siamo spawnati rinati qui ok io stavo cercando di salire qua sopra ma non riuscivo a salire non c'è una scala non c'è niente quindi per raggiungere questo punto dovete per forza fare così poi una volta fatto non vi resta che seguire tutto il video fino alla fine quindi ho fatto vedere nel tutorial tutta la strada per raggiungere il boss quindi il boss da uccidere per prendere questo candelabro dell'inquisitore ok 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 perfetto sono morti tutti e due ecco a voi il candelabro dell'inquisitore dopo 170 guida che ho fatto dopo una lunga pausa che mi sono preso da Elden Ring sono riuscito a fare questo tutorial sinceramente non sapevo dell'esistenza di questa lancia eccola là quindi grazie a tutti per questa visione se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao